Il doppio LS-PV, cioè il doppio ripartitore di frenata, è impiegato nelle vetture dotate di circuito idraulico diagonale, come rappresentato qui in figura. Questo gruppo usa due molle per rilevare le variazioni di altezza della vettura dovute al carico e regolare così la pressione ai cilindretti posteriori. La molla numero 1 è montata tra la leva e il braccio inferiore numero 2 e applica alla leva una tensione diretta verso l'alto. La molla numero 2, invece, è montata tra la leva e la staffa della scocca e applica alla leva una tensione diretta verso il basso. La distanza tra il braccio inferiore e la scocca varia con il carico, facendo trovare l'equilibrio tra le forze delle molle, in una diversa posizione che corrisponde al carico. La variazione delle forze delle molle fa spostare in su o in giù la leva e cambia la forza con cui la leva spinge sullo stantuffo del ripartitore di frenata, che regola la pressione ai cilindretti posteriori. L'adozione del sistema a motore a trazione anteriori sulle wagon ha comportato anche l'adozione del sistema frenante sdoppiato in diagonale. Di conseguenza, il doppio ripartitore comprende due stantuffi per i due circuiti separati del fluido freni, alle ruote di destra e di sinistra. Il movimento della leva viene trasmesso agli stantuffi attraverso un perno e un equalizzatore che permette ad entrambi gli stantuffi di muoversi nella stessa misura. Cerchiamo di capire come funziona il doppio ripartitore di frenata. La pressione ai cilindretti posteriori viene regolata in funzione delle variazioni di carico applicate alla vettura. Poiché gli stantuffi del doppio ripartitore funzionano esattamente allo stesso modo di quelli del normale, analizzeremo solo le forze che agiscono al di sotto degli stantuffi. Esaminiamo cosa succede a vettura a scarica. Quando il carico è ridotto, la distanza tra la scocca e il braccio inferiore numero due è grande. Poiché la molla numero uno, che è poco estesa, e la molla numero due, poco compressa, insieme equilibrano la leva nella posizione come viene qui illustrata in figura, non c'è alcuna forza, non esiste alcuna forza che agisca spingendo in alto gli stantuffi. Di conseguenza, il doppio ripartitore di frenata si comporta come un normale ripartitore a valvola proporzionale, che riduce la pressione. Che succede invece quando la vettura è carica? Quando il carico è elevato, la distanza tra la scocca e il braccio inferiore, il braccio inferiore numero due, si riduce. La molla numero uno, molto estesa, e la numero due, più compressa, spostano la leva nella posizione rappresentata qui in figura. Per cui c'è una forza F1 che agisce spingendo in alto gli stantuffi. Di conseguenza, il doppio ripartitore di frenata funziona aumentando la pressione idraulica ai cilindretti posteriori. Una cosa importante da ricordare è che la vite di registrazione sul lato della molla numero due del doppio ripartitore viene regolata in fabbrica, perciò non si deve tentare di regolarla. Se fosse necessario, o se proprio si rende necessario, una regolazione, occorre effettuarla mediante la vite sul braccio inferiore numero due. Grazie a tutti.